Un caro saluto a tutte e a tutti. Siete naturalmente benvenuti e benvenuti a questa nuova puntata dell'approfondimento. Abbiamo un gradito ospite, Domenico Proietti, segretario confederale della UIL. Grazie e un saluto a tutti i telespettatori. Noi oggi vogliamo come sempre affrontare un argomento, sviscerarlo bene. Crediamo che la legge di bilancio, questa misteriosa legge di bilancio, sia l'oggetto della nostra discussione. Poi abbiamo anche la fortuna di avere Domenico Proietti, che è stato vicepresidente dell'Associazione dei Fondi Pensione Contrattuali, che eventualmente potrà dirci, faremo delle domande, qualcosa sulle pensioni integrative. Ma Proietti, questa legge di bilancio è un po' a rate, è misteriosa, è arrivata, non è arrivata, pare che arrivi. Quali sono le linee essenziali? So che come organizzazioni sindacali, CGL e Cisleville, avete fatto i vostri esecutivi unitari a livello nazionale e avete assunto delle deliberazioni, degli indirizzi. Che cosa chiedete al governo? Quali sono i problemi più importanti? Noi innanzitutto abbiamo fatto una valutazione positiva dello sforzo che il governo intenderebbe fare di uscire dalla fase dell'austerity per passare a una politica a sostegno dell'agriccio e dello sviluppo. Vedendo però tutte le anticipazioni che sono uscite di questa legge di bilancio, perché non c'è ancora un testo finale, notiamo che ci sono molte contraddizioni, che a fronte della premessa sull'utilità di spendere anche a debito un po' di risorse, abbiamo però la sensazione che questi risorsi, i famosi 22 miliardi, non sono indirizzati efficacemente a sostenere la crescita, lo sviluppo, a tagliare le tasse, a riformare la legge Fornero. E quindi come sindacato abbiamo preso un'iniziativa importante di elaborare un documento unitario che poniamo all'attenzione dei gruppi parlamentari e dello stesso governo, nel quale indichiamo le nostre priorità, che velocissimamente riassumo. Il primo punto è sostenere la crescita e lo sviluppo occupazionale. Il secondo è una riforma fiscale, vera, che taglia le tasse ai dipendenti e pensionati. Il terzo è un intervento nuovo sul mezzogiorno, perché se il mezzogiorno non riparte efficacemente, il Paese non torna a crescere a livelli significativi. Il punto ancora importante per noi è la riforma della Previdenza, quindi un intervento che continua a cambiare la legge Fornero, come abbiamo positivamente fatto negli ultimi due anni. Infine c'è il tema della scuola e della conoscenza, dove bisogna rimettere risorse. Questo è un tema strategico per il futuro del Paese. In questi anni ci sono stati solo tagli, invece bisogna rimettere risorse. E infine la riforma della pubblica amministrazione, ridando stabilità e riunioni contrattuali e valorizzando il grande patrimonio di professionalità che abbiamo all'interno della pubblica amministrazione. Partiamo dal punto che lei ha indicato come il primo, probabilmente il principale, quello della crescita, quello dello sviluppo. Allora, in questa legge di bilancio è stata mandata una versione di questo documento programmatico di bilancio a Bruxelles. Poi Bruxelles non ha apprezzato molto il contenuto di questo documento, ma perlomeno lì qualche cifra c'era. Prendiamone una che non è casuale. 1,5%, che cosa vuol dire? Vuol dire la crescita che il governo prevede. Ma secondo lei, gli investimenti, al di là delle parole che si fanno in questo abbozzo di legge di bilancio, porteranno ad una crescita o sono, dal vostro punto di vista, insufficienti? Seconda domanda, ma la TAV, la TAP, il terzo valico, se passa la linea dell'Assemblea Comunale di Torino, a prevalenza Movimento 5 Stelle, che boccia le grandi opere, ci potrà essere sviluppo? Lei non vede in tutto questo una contraddizione? E se non si arriva all'1,5%, del resto l'Istat ci ha detto che il terzo trimestre di quest'anno è a crescita zero, ci saranno meno risorse per fare gli interventi anche di carattere sociale, o mi sbaglio? No, purtroppo è così, c'è una indeterminatezza diffusa nella legge di bilancio, per questo noi abbiamo chiesto che siano destinati a risorse, allo sviluppo, quindi utilizzare investimenti pubblici finalizzati, che attraggono poi anche investimenti privati. Di questo c'è poca traccia all'interno della legge di bilancio e noi ci auguriamo che l'Ite parlamentare invece segni in maniera più robusta un'indicazione in questa direzione. E poi dobbiamo assolutamente pensare a fare le grandi infrastrutture. Non si può pensare di dire no a tutto nel nostro paese, è antistorico, è sbagliato. Noi dobbiamo coniugare lo sviluppo delle grandi opere con l'ambiente e abbiamo avuto un esempio positivo di come questo si può fare. L'accordo che è stato fatto un mese fa sull'Ilva, che era un'azienda adatta per Persa e che invece ha grandi potenzialità, è stato proprio fatto coniugando le esigenze dei lavoratori, del lavoro con le esigenze ambientali. Se l'Ilva per ipotesi fosse stata chiusa, ma quale risanamento ambientale si sarebbe fatto a Taranto? Si faceva alla fine di Bagnoli. Invece attraverso l'impegno forte del sindacato e anche della parte datoriale, il governo ha secondato queste nostre richieste, si è ottenuto un buon risultato. Questo metodo bisogna farlo anche in altri settori. C'è bisogno di una politica industriale diffusa che valorizzi le eccellenze produttive che noi abbiamo in Italia. l'Italia è ancora il secondo paese manufatturato d'Europa e questo è un elemento di forza che dobbiamo coniugare al grande sviluppo che dobbiamo portare in campo turistico, ambientale, valorizzando il grande patrimonio delle nostre risorse enogastronomiche. Abbiamo tante cose, ma bisogna mettere a regime tutte queste cose attraverso un ruolo pubblico importante e orientato a sostenere la crescita. Quindi lei immagino starà dalla parte dei lavoratori che sono addetti alle grandi opere, la TAV, la TAP, piuttosto che il terzo valico, alcuni dei quali sono scesi anche in piazza contro il governo per dire ma noi non vogliamo l'assistenza, noi vogliamo il lavoro. Questo è il punto fondamentale. Noi abbiamo ribadito anche il nostro documento. Noi pensiamo, per usare uno slogan caro all'attuale governo, noi pensiamo al lavoro di cittadinanza. Dobbiamo creare le condizioni per una buona e stabile occupazione. Poi è chiaro che ci dobbiamo far carico anche dei momenti di disagio delle persone e quindi il reddito di cittadinanza va inserito nella direzione che già l'anno scorso siamo riusciti a far fare in parte al precedente governo che è il reddito di inclusione, che ha finalità molto precise che con risorse maggiori può rispondere all'esigenza di dare una risposta al disagio. Ma l'obiettivo finale deve essere sempre giusto di collegare queste persone a una possibilità di ritorno nel mondo del lavoro. L'altro capitolo molto importante è sicuramente il capitolo fiscale. Ma qui tra flat tax e interventi di condono, ma che cosa ne pensa il sindacato? Ma per i pensionati e i lavoratori c'è qualcosa o non c'è niente? Al momento non c'è niente e noi diciamo, utilizzando e parafrasando uno slogan del governo che si propone di fare la pace fiscale, la pace fiscale il governo la deve fare con chi paga le tasse, vale a dire con i lavorodipendenti e i pensionati che contribuiscono per oltre il 94% al gettito IPEF. Quindi la pace va fatta con queste persone. Queste persone non possono evadere perché prima pagano le tasse e poi prendono lo stipendio della pensione. Altri settori del Paese invece fanno quello che vogliono praticamente. Noi abbiamo il più alto livello di evasione fiscale in Europa, oltre 110 miliardi. In questa situazione bisogna stroncarla, bisogna cambiare la politica nella lotta all'evasione fiscale. Non con uno Stato poliziotto, ma con uno Stato efficiente che faccia i controlli e attraverso i controlli si possono recuperare tante risorse da destinare sia agli investimenti, ma soprattutto al taglio delle tasse che oggi in Italia è troppo alto. Ma questo taglio delle tasse, ripeto, va fatto cominciando dai lavoratori e dai pensionati. Ma lei non ha l'impressione che effettivamente più che di pace fiscale si parla di un condono to cure. Com'è compatibile tutto questo con quanto, ha detto anche in campagna elettorale e soprattutto dal Movimento 5 Stelle, che ha detto condoni mai? Noi siamo assolutamente contrari dal condono, perché il condono è un regalo agli evasori e una beffa per i cittadini onesti. Quindi assolutamente no condoni, lo diremo con forza. Noi svilupperemo un'iniziativa di diffusione di queste nostre proposte in tutto il territorio nazionale. Faremo 130 grandi assemblee in tutta Italia in cui sosteremo con forza queste nostre tesi e ci auguriamo che in Parlamento emerga una parte importante che precedentemente avevo assunto, come lei ricordava, delle posizioni di contrarietà al condono e sia coerente con quell'impostazione. Poi ognuno risponderà delle proprie azioni. Noi pensiamo che oggi il condono sia una cosa pesantemente negativa, perché si dà un segnale di arretramento nella lotta all'evasione, proprio nel momento in cui ci sarebbe bisogno di una svolta storica e di una volontà politica che va a colpire questo gravissimo danno della nostra economia, che poi è un danno anche all'idea che noi abbiamo della democrazia. Perché nelle democrazie moderne si accede ai diritti di cittadinanza se si fa il proprio dovere con il fisco. In Italia un terzo degli italiani non fa il proprio dovere con il fisco e accede ugualmente ai diritti di cittadinanza. I figli vanno all'asilo nido, mentre i figli delle persone che hanno redditi medi sono costretti a pagare retti, eccetera. Per la Wille noi vorremmo anche fare, per dare il segnale che si fa una svolta, vorremmo fare delle cose straordinarie. Ad esempio fare una procura nazionale anti-evasione, che si ponga l'obiettivo di recuperare ogni anno almeno il 40% dell'evasione, con strumenti efficaci. Non ci vogliono leggi nuove, basterebbe incrociare le banche dati per vedere dove sta l'evasione. E questo speriamo che nel futuro lo si possa fare. Quindi bisogna che il governo sul tema fiscale, forse abbia qualche ripensamento, però per avere qualche ripensamento bisognerebbe che incontrasse il sindacato. Ma finora il confronto col sindacato c'è stato o non c'è stato? Ufficialmente non risulta mai. Ci sono degli incontri ufficiosi, c'è stato uno scambio di opinioni prima della costruzione di questa architettura della legge di bilancio. Il governo procede un po' a strappi nel confronto con il sindacato. Sulla legge di bilancio non c'è stato nessun confronto, né ufficiale, tanto meno semi-ufficiale. Su altri punti c'è stato invece un confronto positivo. Ricordavo prima la vicenda dell'ILVA, dove bisogna dare atto al Ministro del Lavoro di aver svolto un ruolo positivo nel concludere un'intesa fortemente voluta dal sindacato nella direzione giusta. Sugli altri temi no. Allora noi diciamo al governo attenzione, tutte le volte che si sono chiamate le parti sociali, i sindacati, gli imprenditori a discutere sulle soluzioni da dare ai problemi del Paese, si sono sempre fatte buone cose. Quando i governi hanno voluto fare da sé, molto spesso si sono fatti dei pasticci. Vediamo la legge Fornero e potremmo citare anche altri aspetti. Quindi c'è ancora tempo per il governo di riconoscere la necessità di questo confronto, ma non per dare al sindacato un diritto di veto sulle scelte che il governo fa. Noi abbiamo ben chiara l'autonomia del governo e la sovranità del Parlamento. Però, come ho detto, pensiamo che possiamo contribuire positivamente ad individuare delle soluzioni sul tema fiscale, sulla previdenza, sullo sviluppo e su tutti i problemi. Penso anche alla necessità di modificare il Jobat, introducendo alcuni ammortizzatori sociali, senza i quali si mette in grave difficoltà la vita di tanti lavoratori. Lei mi sta parlando di una cosa che non c'è più, la concertazione. Mi pare che io, ministro del lavoro nel 2006, lei era un novello segretario confederale della UIL, ci siamo incontrati a quei tavoli, abbiamo concertato. Lei ha un po' nostalgia di quella concertazione, di quel protocollo del 2007 che fece il governo Prodi, che facciamo assieme, che ebbe anche l'assenso di 5 milioni di lavoratori e pensionati che andarono al voto. Fu un bell'esempio? Fu un ottimo esempio, uno degli ultimi a dire il vero. E questo è una dimostrazione che non è vero che il sindacato dice solo dei no, ad esempio sulla previdenza. Noi ci siamo assunti delle responsabilità. Prima ancora nel 1995 facevamo un'intesa e la sottoponemmo al giudizio dei lavoratori. Nel 2007 la stessa cosa, lo ricordava lei. Quello è il metodo. Io so che il ministro del lavoro attuale è venuto ad un convegno della mia organizzazione a dire io sono per la concertazione. Però finora di concertazione ne abbiamo vista poca. Ma noi siamo fiduciosi, nel senso che pensiamo, grazie alla nostra attività, al nostro impegno, che il governo attuale possa cambiare idea. Di resto anche i governi precedenti non hanno brillato negli ultimi anni nel colloquio del sindacato, finché hanno dovuto prendere atto che su alcuni temi il confronto è necessario. Ma non perché il sindacato vuole tornare a Palazzo Liggi, alla Sala Verde? Quello è uno strumento. Quando i giornalistici ci hanno chiesto all'indomani della scelta del loro governo Renzi di riprendere un dialogo positivo che poi ha portato alle prime modifiche importanti della legge Fernero, ai giornalisti che ci chiedevano siete contenti, vi hanno riconosciuto un ruolo tornato a Palazzo Liggi? No, quello è uno strumento. Il tavolo è uno strumento per conseguire degli obiettivi che migliorano la vita delle persone. Il tavolo non è il fine dell'attività sindacale, è lo strumento attraverso il quale ottenere dei risultati positivi per i lavoratori e le lavoratrici. Noi speriamo naturalmente che il dialogo, come si dice, vinca questa partita perché se c'è semplicemente scontro, se non si riconosce il ruolo delle parti sociali, il ruolo dell'intermediazione, credo che il Paese non ne tragga beneficio. Ma entrando nel merito delle questioni, prendiamo un tema molto caldo e molto caro a tutti, la Previdenza. Ma a che punto siamo? Quota 100, opzione donna, blocco del rapporto fra innalzamento dell'età della pensione e aspettativa di vita, i 41 anni di contributi per i precoci. Che cosa c'è in pentola? Ma lei non ha l'impressione che quei 6,7 miliardi stanziati nella legge di bilancio per la Previdenza possano fare una di queste operazioni, ma non tutto quello che è stato promesso. Noi pensiamo intanto che occorre fare una grande operazione verità sui conti della Previdenza, perché noi continuiamo ad avere questa commissione tra spesa previdenziale e spesa assistenziale che non c'è in nessuna parte d'Europa. Quindi noi ci facciamo del male da soli portando in Europa il dato del 16,5% di spesa previdenziale, quando la spesa previdenziale è pura per pensioni, comprese le pensioni sociali, è intorno all'11%. Eravamo riusciti a far fare una legge che istitueva una commissione, l'hanno fatta scadere, adesso la riproporremo. Sarebbe interesse del governo italiano fare questa separazione, andare in Europa a dire, vedete, i nostri conti previdenziali sono a posto, quindi possiamo anche fare delle modifiche che riallignano il sistema italiano a quello che avviene in Europa. In Europa si va mediamente in pensione a 63 anni, noi andiamo a 67 anni, la Germania ci andrà nel 2030 nel 67 anni, quindi si possono fare molte cose, adesso io non conosco le cifre precise, però ci sono le risorse per fare alcune cose, quali? Intanto bisogna continuare a cambiare la Fornero nella direzione che abbiamo fatto in questi due anni, perché non dimentichiamolo, che in questi due anni noi abbiamo rintrodotto una flessibilità intorno a 63 anni per 16 categorie di lauree gravosti. Per le stesse categorie valgono i 41 anni di contributi, abbiamo fatto il cumulo gratuito, prima costava tanti decine di migliaia di euro ricongiungere le contribuzioni, abbiamo fatto la 14esima fino a 1000 euro che lei iniziò nel 2007, fu una grande innovazione, perché quella 14esima non fu un intervento e non non è un intervento assistenziale, ma un intervento che valorizza gli anni di contributi versali, è una cosa modernissima, quindi dobbiamo continuare. Allora oggi che cosa diciamo? Il governo dice quota 100 e all'inizio hanno detto 64 anni, noi abbiamo detto guardate che in questo moto non solo non si smonta la Fornero, ma si peggiora l'ape sociale che abbiamo fatto lo scorso anno. Allora hanno capito e hanno cominciato a dire 62 anni e 38 anni di contribuzione. Diciamo la verità, questo sarebbe un intervento importante che risolve i problemi dei lavoratori del nord, dei lavoratori del settore pubblico, ma risolve meno i problemi dei lavoratori del centro-sud che difficilmente arrivano a 38 anni di contribuzione e non risolve affatto il problema delle donne che per i motivi che sappiamo tra maternità e lavoro di cura hanno che avere contributive molto meno sostanziose. Allora noi diciamo quota 100 va bene, ma bisogna affiancare a quota 100 un intervento che valorizzi il lavoro di cura delle donne, che proroghi opzione donna per un paio d'anni, che stabilisca che 41 anni di contribuzione bastano e avanzano per andare in pensione a procedere dall'età, si affronti oggi il tema della pensione futura dei giovani che a causa della pregata del lavoro hanno buchi di contribuzione e si riprenda un processo di rivalutazione delle pensioni sia attraverso la 14esima e sia mantenendo fermo il fatto che dal 1 gennaio 2019 ritorna la rivalutazione pre Monti Fornero che ha molto penalizzato in questi anni i pensionati. Queste sono le richieste del sindacato, le avete fatte in modo unitario, in parte sono promesse del governo, però io che ho maneggiato prima da ministro e poi da presidente della commissione lavoro nella passata legislatura i conti, le faccio presente perché sono cose che lei ben capisce, ricorderà le battaglie per le otto salvaguardie, come ci siamo spesi per la vostra trattativa che ha portato un buon risultato con l'appe sociale, che all'epoca l'Inps e la ragioneria che valida sempre i conti dell'Inps ci disse che per quota 100, la mia proposta di legge era simile a quella dell'attuale governo, ci volevano 6 miliardi all'anno strutturali e per portare l'asticella a 41 anni di contributi indipendentemente dall'età per andare in pensione ci volevano altri 6 miliardi, ma 6 più 6 fa 12, in più opzione donna lei ricorderà che quello spostamento di 3 mesi più la finestra dei 15 mesi ci è costata 2 miliardi e mezzo, adesso si vuole spostare di 3 anni, ripeto, ma le risorse ci sono o non ci sono? Mi pare che nella legge di bilancio non ci siano, tant'è che c'è il rischio che quel 2,4 che è il rapporto fra il deficit del prodotto interno lordo, mentre Conte, il Presidente del Consiglio dice che deve essere il tetto, io se si fanno tutte queste richieste per fare quelle cose diventa un pavimento, non è più un tetto. Io penso che non debba essere il sindacato il guardiano dei conti pubblici, pur sapendo e rivendicando il ruolo che il sindacato italiano ha avuto nella salvaguardia dell'equilibrio del bilancio italiano. Perché non dobbiamo essere noi guardiani dei conti pubblici? Perché noi abbiamo l'impressione che ci sia qualcosa che non funziona nel modo di contare la finanza pubblica in Italia e in Europa. Le faccio un esempio, quando stavamo discutendo con l'allora sottosegretario Nannicini, la famosa fase 1 della Previdenza che ha cominciato a cambiare la Fornero, noi proponemmo di rintrodurre subito la rivalutazione delle pensioni dal 1 gennaio 2018 e ci fu detto ma costerebbe troppo, come fa a costare troppo se in quel momento eravamo in deflazione? Quindi i pensionati non dovevano prendere niente, era un fatto simbolo, invece no, in base alle regole di finanza pubblica, se noi avessimo fatto quel provvedimento bisognava postare in bilancio risorse pari al tasso di inflazione programmato dell'1,8, quindi risorse postate che i pensionati non avrebbero preso, ma è un modo serio di contare la finanza pubblica questo? Poi ci lamentiamo che i cittadini fanno scelte elettorali di ogni tipo, allora ci vuole un'iniziativa che punti a rimettere ordine nella finanza pubblica con regole certe. Un altro dato che lei ricorderà, perché era Presidente della Commissione della Camera, noi abbiamo fatto un conto che nessuno è stato in grado di smentire, tra le risorse risparmiate nelle salvaguardie, opzione donna, il fondo di quando si alzò l'età delle donne che dovevano andare prima, erano quasi 4 miliardi e mezzo che sono finiti in economia, invece se vengono mantenuti dentro il sistema previdenziale permetterebbero di fare molte delle cose che noi chiediamo di fare. Allora il tema di come si conta la finanza pubblica è un tema decisivo ed importante e noi torneremo su questo argomento, perché altrimenti passiamo come la politica o il sindacato che sta a guardare solo il conto della spesa, quando invece questo conto della spesa è importante guardarlo, ma bisogna guardarlo quello vero, non come ce lo rappresentano. E purtroppo la colpa, voglio spendere una parola, non è neanche dei funzionari della ragioneria generale che applicano regole che ci sono, è la politica che deve tornare ad assumere un ruolo di indirizzo e di garanzia che queste regole siano efficaci per la vita delle persone, perché altrimenti andremo sempre di più verso una deriva antieuropea, verso una deriva che vede nello Stato invece che un momento regolatore e di progresso vero viene vissuto dai cittadini come un ostacolo a realizzare i propri bisogni. Potremmo fare su questo argomento tantissimi esempi, lei parlava del famoso peso della previdenza sul prodotto interno lordo, secondo i calcoli europei noi pesiamo per il 16, una cifra spropositata, ma bisogna sempre dire che lì si calcolano all'ordo le pensioni, perché se si calcolassero al netto, voglio fare un esempio, se uno mette in tasca 1.200 di pensione e ne paga 1.600, i 400 li restituisce, ma se tu mi calcoli 1.600 è evidente che andiamo al 16%, quindi anche il modo con il quale si costruiscono i dati può falsare la verità e può far apparire la pensione come un costo eccessivo, cosa che non è. Penso all'ottava salvaguardia, l'Inps di Boeri ci chiese risorse per 30.000 persone, a consuntivo sono state 14.000, la metà di quei soldi se ne è tornata da dove è venuta, non è che viene impiegata per portare altri in salvo, quindi lei ha perfettamente ragione su questo. E sempre pensando al tema previdenziale, una domanda secca, ma lei che cosa ne pensa di questa pensione di garanzia che pare non contempli un legame con i contributi? Bisogna assolutamente legarla ai contributi, perché altrimenti si innesca un processo che è degenerativo, che potrebbe portare a una grande spinta all'evasione contributiva, perché se io so in partenza che anche non pensando ai contributi prendo una pensione è un incentivo al lavoro nero, cosa che noi non vogliamo assolutamente. Come va affrontato il tema? Bisogna trovare un meccanismo che copra i buchi da contribuzione a causa del lavoro precario, qui senza entrare troppo nel tecnicismo, si può prevedere o un bonus che copra queste fasi di mancato lavoro e quindi di mancata contribuzione o si può pensare a una base di pensione di garanzia per tutti, alla quale poi si aggiunge la pensione frutto di contribuzione. È un tema delicato che presenta aspetti che vanno approfonditi, però quello che è certo è che noi dobbiamo pensare alle future pensioni dei giovani e le pensioni dei giovani si costruiscono e si salvaguardano, dando stabilità al lavoro. Questo è l'obiettivo che in questi anni si è sottovalutato. Tutti i provvedimenti che sono stati fatti, i vari decreti che si sperava da parte dei promotori potessero creare una stabilità dell'occupazione purtroppo non hanno dato risultati soddisfacenti. Allora la via maestra è quella di far costare un po' di più il lavoro a tempo indeterminato e far costare meno il lavoro a tempo indeterminato e di più a quello a tempo determinato. Questa è la via maestra e il governo e le parti sociali e anche gli imprenditori si devono convincere di questo perché anche dal punto di vista imprenditoriale bisogna curare il benessere lavorativo delle persone. In quelle aziende dove ci sono imprenditori illuminati che hanno a cuore il benessere lavorativo, la produttività aumenta fino al 30% con un beneficio enorme per le stesse imprese. Questa è la via del futuro, altrimenti se ci mettiamo a fare la concorrenza sul costo del lavoro non lo reggeremo mai con i paesi che si affacciano all'interno dei nuovi mercati della globalizzazione. Quindi questa è una questione di cultura dell'impresa anche che noi facendo anche un accordo con Confindustria recentemente nominato patto della fabbrica stiamo cercando di far diffondere in maniera ampia all'interno delle nostre imprese. Non possiamo che essere d'accordo, anch'io penso che dire ad esempio ai giovani, ai nostri figli e nipoti avrai comunque una pensione da 780 euro anche se non versi un contributo, magari te la tolgo se sei proprietario di appartamento e te la tolgo se non sei proprietario di appartamento, non mi pare una logica previdenziale, vuol quasi suggerire lavoro al nero. Ma se questi giovani non versano i contributi per se stessi, non versano i contributi per quelli che adesso sono in pensione perché il nostro è un sistema a ripartizione. Quindi io sono molto d'accordo, mi pare che il sindacato l'abbia previsto, lei lo ricordava che ci sono degli strappi nelle carriere, la discontinuità, il momento nel quale sei in cassa integrazione, sei disoccupato, non hai i contributi, sei in maternità, facciamo in modo che quei periodi di mancanza di lavoro siano riconosciuti dal punto di vista contributivo. Allora da lì ricostruisci poi l'erogazione di una pensione. L'ultima domanda per i minuti che abbiamo, pochi, a disposizione. Lei che è stato vicepresidente dell'associazione dei fondi previdenziali, contrattuali, ma questa previdenza complementare, integrativa, è scomparsa dai radar? No, non è scomparsa, è che bisogna riaccendere i riflettori su questo sistema, partendo da un dato. Noi abbiamo il miglior sistema di fondi pensione del mondo. In questi anni di crisi dei mercati finanziari, in tutto il mondo i fondi hanno avuto problemi, meno che in Italia. Perché noi abbiamo un modello, che lei ha contribuito a definire e ad attuare insieme con noi, che differenzia l'investimento previdenziale dall'investimento finanziario d'ucuro. In particolare i fondi negoziali, che sono frutto della contrattazione in questi anni, non hanno avuto un'azione Parmalat, un blog argentino, un'azione Aleman Brot, proprio perché c'è un sistema di regole che garantisce l'efficacia degli investimenti. Dobbiamo riaccendere i riflettori, tornare ad informare i lavoratori. Abbiamo chiesto al governo precedente, lo chiederemo a questo, di rifare un semestre di silenzio e assenso. Quando lei lo anticipò in maniera molto lungimirante dal 2008 al 2007, un milione e mezzo di lavoratori si sono iscritti ai fondi pensioni. E se non ci fosse stata quell'anticipazione, il semestre sarebbe venuto il 2008 in piena crisi finanziaria e questo risultato non sarebbe stato conseguito. Quindi ci vuole lungimiranza e coraggio. Le parti sociali hanno avuto molta lungimiranza nel definire questo modello dei fondi pensioni, che è il frutto migliore delle relazioni industriali degli ultimi 25 anni. Oggi dobbiamo continuare. Da parte nostra noi stiamo già razionalizzando l'offerta, stiamo unendo fondi dello stesso settore, che vanno tutti bene, però se li uniamo diamo ancora una rendita maggiore agli iscritti. La stessa cosa ci aspettiamo dal governo. Però bisogna dire che in questi anni, proprio da parte dei governi, tutti che si sono succeduti verso la pretenza complementare c'è stata non solo disattenzione, ma c'è stata quasi una campagna di controinformazione. Lei si ricorderà i tentativi di abolire la Covid, che è l'autorità che garantisce il sistema. Il TFR in busta paga, come se non servisse a mandarla alla complementare. La portabilità del contributo datoriale. Tutti i provvedimenti che hanno disorientato, nella migliore dell'ipotesi, i lavoratori. Invece noi dobbiamo tornare ad informare i lavoratori sulla necessità e opportunità della pretenza complementare. Un ultimo dato. I fondi pensioni in questi anni hanno dato rendimenti ottimi, sia quelli negoziali, anche quelli delle banche, anche quelli delle assicurazioni, che però a differenza dei fondi negoziali costano molto di più e quindi il costo incite nella rendita finale. Ma nell'insieme si sono rivalutati molto di più del TFR lasciato in azienda. Vale a dire, chi non si è iscritto al fondo pensione e ha lasciato il TFR in azienda, in questi anni ha perso dei soldi, che poteva invece guadagnare destinando il TFR alla pretenza complementare. Noi faremo nei prossimi mesi una forte campagna. Ci auguriamo che il governo ci dia ascolto, si rifaccia un semestre di silenzio e assenso per dare la possibilità ai lavoratori di riflettere e di iscriversi ai fondi pensioni. Bene, ringraziamo Domenico Proietti, naturalmente ci associamo al suo appello, lo dico soprattutto ai giovani. Se avete un lavoro dipendente, se siete in un settore che ha la previdenza complementare, i fondi contrattuali, iscrivetevi perché conviene e fa parte del vostro futuro, un futuro che purtroppo non avrà pensioni di livello molto elevato dal punto di vista dell'assegno pensionistico. Grazie ancora. Grazie a voi. Grazie a voi.